Ben tornati per il 44esimo episodio di Wolfenstein in order, come sempre con il giro a ruoto E allora mi arrivati qui? E praticamente, beh, questo pezzo ho dovuto farlo da solo, si sono messi a cacchierare che stanno arrivando i nemici Come al solito, bla bla bla, ragazzi, è stato un inferno Cioè, va sicuro che cercare fatto pezzo, senza armi, senza niente, è qualcosa di improponibile Ma io dico no Ok, allora, adesso, cerchiamo di andare avanti senza troppi problemi E dobbiamo andare nel parcheggio Semplicemente Quindi, ora andiamo, cerchiamo di non fare troppi errori, magari Cosa che farò sicuramente, mappa aggiornare intanto Allora, mettiamoci il mitra Il mitra Ok, grazie, molto gentile, come sempre Allora, entriamo qui Meno male che non ci stanno più le tante ancora quelle cose da fare Mamma mia, quelle serratore che merda Ragazzi, non le sopporto È morto? Così, bravo, così mi piace La cosa brutta del suo livello, ragazzi, è Che questi le sgamano subito Non c'hai il tempo di fare assolutamente nulla Come vedete, non potete fare nulla E io ci sto sclerando da prima a questo livello Ci sto sclerando Non lo sopporto Che solito potevi fare Un minimo stelta Adesso non puoi fare niente Un minimo Ma adesso Io non sono stupido Quindi uso il lanciarazzi per ammassarlo Muori, grazie Tira fuori la tua capoccia, maledetto Non ci credo Oh, così va bene Non più di tanto perché sto per morire un'altra volta Ma dettagli Quindi magari cerchiamo di stare più attenti Che ne dite? No, 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 no No, ragazzi, no Questa non è proprio giornata per registrare È una delle tante giornate di merda Che non dovete registrare questa, a quanto pare Bene Mettimi il dannato mitra, grazie Allora E fino a qui ci siamo Ora Cerchiamo di beccarlo subito il bastardo Perfetto Adesso ragioniamo Più o meno Morite Grazie Qui abbiamo un pa' di munizioni pesanti Perfetto Pallottole Ok Allora Cerchiamo un po' di alzare un po' il volume ragazzi Perché mi sa che si sente ben poco Anche se in tedesco Non penso che mi interessi qualcosa Allora No, comunque ragazzi Mi fa sicuro che è stato un mezzo inferno Il pezzo di prima Perché non riuscivo a passarlo Stavo senza armi Senza niente Non so neanche io come ho fatto sinceramente Di qua non si può andare Va bene Allora Vediamo un po' Qui niente Qui niente Ah, una porta Bene Però io li ho visto anche Ah no Mi sembrava un tunnel Perfetto Una granata Tesla Oh no Per favore Risparmiami Perfetto Sinceramente io questi serratori ragazzi Non le sopporto Non mi piacciono proprio come cosa da risolve Ricarichiamoci le armi Grazie Perché non si sa mai Assolutamente non si sa mai ragazzi Ormai l'ho capito proprio A pelle Se potrebbe di Allora Se non è di qua Sicuramente troveremo morte Certa Quindi Andiamo per di qua Ma che no Sono morto Ho caduto esattamente Tra l'ascensore E il vuoto Come ho fatto Come ho fatto Solo io ci riesco Solo io Solo io ragazzi Ma dai No Un'altra volta da qua Ma serio Ma muori Metti l'arma Dannazione Grazie Grazie Sempre molto gentile Molto disponibile Soprattutto Muori Bene Varese Ho fatto in realtà Tutti Adesso Tutti prima Con colpo Ottimo Perfetto Non mi lamento Bene Visto che abbiamo Già Preso un po' Tutto Un po' Di sovraccarico Muovendo lo stesso Rifacciamo Questa cosa Ok Ho fatto quasi subito Almeno Ora Grazie Per non essere morto Questa volta Quindi farlo anche prima Ma ovviamente Allora Cosa dovrei fare Di grazie Adesso Non lo so Non lo so Ah ok Ma mo me lo dai L'obiettivo Ma c'è un pezzo Di Beh Cosa dovrei fare Usare il coso Non penso di passare Ci sono passato Grande Metti che però Blastwich È abbastanza Groppo Ma dai Ma che diavolo Ma non me ne Era accorto Padannazione No regà No 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 Non si può Fa così Non si può Fare così Questa è una presa In giro Veramente E io cerco Le fa un taglio Preciso Ma Oddio mio No 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 Niente ragazzi Proprio Quando dice Sfiga Se deve Di sfiga Ok Ora Mi dimettiamoci Il mitra Grazie Perfetto Qui sta esplodendo Di tutto Intanto Elimina L'elicottero Ah ah E con che arma No tanto per capire Con che arma Dovrei distruggere L'elicottero Con quale Ragionamento Logico Sovrattuto Non ho Non ho Un dannato Milancia Mistri Non ho Un Non lo so Qualsiasi cosa Che potesse Dammi una mano Non so niente Proviamo a cercare in giro Magari lo troviamo Però Non lo so Ah Pensavo molto peggio Perfetto Niente di più semplice Pensavo Che sarebbe andare Molto peggio Va bene Ottimo Mi va benissimo Così Ah Fatti Il codice Enigma Bene 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 Ma porco Merda Beh ragazzi Mi pare abbastanza Evidente Che i nazisti Stanno messi Veramente male Adesso Se ci prendiamo In londonautica Praticamente Siamo a cavallo Ah 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 Sì Quanto mi piace Quando funzionano le cose Bene Cerchiamo il prossimo Salvataggio Direi che l'episodio Può Finire Qua Ma Siccome Io non sto vedendo niente Come al solito Allora Dove dovrei andare Grazie Direi per di qua Forse Ma anche No Oh Ecco Tu Sicuramente Mi sarei molto utile Poco ma Sicuro Quindi Ti ricarico Immediatamente Magari Devo cercare Però Ecco Salvataggio Quindi ragazzi Io vi ringrazio Per visto il video Lasciate like Un commento E sempre Se volete Iscrivetevi Al canale Anzi Lasciate un like Per il L'elicottero Abbattuto Dal vostro Contro E ora è tutto Sei Ho 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 Ho